Viva Performance Lab è un progetto gioioso che permette alla gente di incontrarsi, di conoscersi e soprattutto di esprimersi pienamente nel modo migliore. Il Museo dei Brezzi e degli Enotri è sempre pieno di gente che si vuole incontrare e che vuole partecipare, associazioni, artisti, giovani, studenti. In attesa del Festival dell'8 e il 9 dicembre che riempirà la città di performer interessanti da vedere. Breze, condivisione e opportunità stimolanti, creative. È stata un'esperienza molto interessante di cui la città secondo me aveva bisogno, dei singoli soggetti che hanno partecipato. Speriamo che ci sia un grande seguito e le sessioni facciamolo più breve, la prossima notte perché ho davvero bisogno di uscire. Complimenti Catarina e Francesca per questi bellissimi tre giorni. Credo che se le organizzazioni che hanno partecipato terranno bene i piedi per terra e lavoreranno con la necessaria passione, credo che potrete, prima di quello che si pensi, potrete raggiungere degli obiettivi molto importanti per la città. Sono compiaciuta, felicissima di essere stata rapita in questa dimensione altra e spero di ritornare, spero che ritorniamo. C'era una volta un piccolo naviglio che non voleva, non voleva navigare, ma dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane il piccolo naviglio navigò. Mi fai la foto con questo monumento, mi fai la foto con il monumento. Ma che monumento? Ma che siete impazziti? Il monumento tra l'altro a cavallo me lo dovrebbero fare, però sono senza cavallo. Meno male che adesso il prossimo anno poi con questo grande progetto che è partito in queste due giornate faremo le schegge in Europa e nel mondo. Grazie a tutti.